Buonasera, non so a questo punto se... Forse voglio accedere le luci? No, non so se devi venire coraggioso o irresponsabile, insomma, dopo tutto. Se mi permettete, vista l'ora, provo a rompere un po' la liturgia, anche perché ci sono 32 slide e io vorrei evitare di superare i 15 minuti ed è una scommessa che abbiamo fatto. Hanno contattato me, Laura Saudelli e Sergio Saccavino, li ringrazio in premessa perché hanno letto qualche articolo e qualche cosa, ma io ho chiesto ovviamente a chi ha fatto partire la macchina, cioè al comune di Ravenna, di accompagnarmi, anzi di precedermi, perché quello che abbiamo fatto a scuola in realtà nasce perché loro ci hanno lanciato una sfida e noi, come dicevo, forse anche un po' in maniera incosciente, abbiamo detto subito sì, ricordo che fui il primo a fare la mano in riunione, insomma, come immagino i colleghi, so che ci sono dei colleghi qua dentro, io non vi conosco, ma ecco, siete in tutti, esatto, il rapporto con gli enti locali è sempre una sfida, no? Bella, interessante, alle volte non facile, in questo caso ci siamo ritrovati. La nostra scuola, ve la presento perché altrimenti parliamo di cose astratte, è costituita da sei plessi, due scuole dell'infanzia, tre scuole primarie e una scuola secondaria invece di primo grado, era una vecchia direzione didattica diventata nel 2013 con la riorganizzazione dell'offerta formativa del territorio comunale di Ravenna, un istituto comprensivo. Vedete come sono distribuiti i plessi, quelli sono i bacini territoriali, io ho un plesso che sta oltreoceano, dico sempre che ho il territorio di oltremare, no? Perché sta dall'altra parte e poi si estende per tutto il forese. È una scuola a cavallo fra centro città, quando è nata negli anni 60 era periferia, oggi centro città e poi ci sono invece plessi nel forese, quindi una scuola complicata. La scuola complicata vada pur avanti, sono 1200 alunni in totale, sono i plessi per così, vedete un po' anche la differenza, insomma lo spazio fisico ha una sua importanza, come è stato di volte detto, ma possiamo procedere. La complessità nasceva anche dal fatto che io sono arrivato nel 2019 e c'erano fino ad allora, stati prima di me, solo dei presidi e dirigenti scolastici in regenza. Quindi la scuola aveva da sempre camminato un po' sulle sue gambe, sapete che questo può comportare tante cose, un po' di caos, ma d'altra parte anche il fatto di farsi le ossa, no? Quindi c'erano persone in grado di lavorare in un certo modo, avevano un'autonomia professionale e una solidità. Un'identità plurale, in ogni plesso si sperimentavano, si facevano, si fanno cose diverse. Ho una scuola interamente senza zai, non siamo scuola capofila regionale, c'è una scuola che sta sperimentando da anni l'autoreducation, c'è il tempo pieno che ha una storia di laboratorialità alle spalle molto forte, e poi c'è una grande attenzione alla dinamica dell'inclusione che io ho trovato già in essere. Possiamo andare, non entro in tutti i dettagli ovviamente, poi le slide ve li lascio così potete analizzare. Gli educatori avevano già un ruolo importante, molto più che altrove, erano apprezzati, erano inseriti, erano punti di riferimento, lavoravano già anche con gli altri alunni, non solo con i ragazzini e i bimbi con disabilità certificata. Vi dico che la prima cosa che notai è che nell'assegnazione dei docenti ai plessi, nell'assegnazione delle cattere, trovavo sempre anche l'inserimento dell'educatore. Per me, che veniva da un'altra realtà, era un'anomalia, cioè il dirigente non assegna l'educatore alla classe, no? È assegnato al bambino, a seguito di un percorso normativo, eccetera. L'avevo rimosso, cancellato, mi sembrava un'anomalia. Poi ci sono ritornato invece e l'ho rinserito. Perché? Perché appunto possiamo andare nell'anno scolastico 21-22, è partita da parte del Comune questa sperimentazione, ci hanno chiamato all'appello, chi vuole partecipare, ci siamo lanciati, perché per due ragioni. Ci sembrava che in fin dei conti fosse un modo per mettere a sistema delle cose che noi già facevamo e ci piacevano di una cornice normativa. E la seconda è perché quando si tratta di entrare in un percorso che ti viene annunciato come sperimentale, ma che ti viene anche presentato come, oi, tra due anni ci arrivate poi tutti a questo sistema, ci siamo detti, e perché allora starne fuori? Da dentro forse siamo anche in grado di dare un contributo, di dirla nostra, di correggere il tiro, di farci sentire, insomma, di tirare per la giacca l'amministrazione comunale, per dirla fuori dagli schemi liturgici. Ecco, è ovvio che c'è anche un problema di risorse economiche, non c'è dubbio. Il problema, dal mio punto di vista, è possiamo trovare un sistema che a fronte del fatto che potranno anche forse esserci dei tagli, però possa anche tradursi in un liberare delle possibilità, delle potenzialità, degli strumenti. Quindi a fronte di magari un calo numerico di ore mi possa permettere di utilizzare meglio e con maggiori spazi di manovra queste risorse? Questa è stata la sfida. Il modello, la slide ripete le cose che vi ha già illustrato il dottor Morelli, quindi ve la risparmio. Il modello punta, no, su determinate cose, quindi la stabilità, il consolidamento della professionalità degli educatori, è la flessibilità delle risorse educative, quindi un utilizzo mirato, insomma, e non più standardizzato, e quindi la possibilità di fare progettazioni di percorsi molto più efficaci rispetto a prima. Se andiamo avanti, vi faccio degli esempi, l'educatore, nella maggior parte dei casi ormai, lavora sempre di più sul gruppo, sul contesto classe, poi è chiaro, ogni caso è a sé, e siamo stati in grado di far entrare nel circuito anche quegli alunni per i quali noi di solito non abbiamo strumenti. Chi fa il mio mestiere lo sa, ma anche gli insegnanti lo sanno bene, la nostra difficoltà maggiore è avere tante ore, magari su qualcuno che ha una diagnosi di un certo tipo, per cui sembra necessario un certo numero di risorse, e poi in realtà ti accorgi, o perché cresce, o perché fa un certo percorso, quelle risorse forse possono essere spese in maniera diversa, e non le hai per qualcun altro che invece ne avrebbe bisogno, per tutta una serie di ragioni che non sto qui ad elencare, dal fatto che la famiglia non accetta la certificazione, dal fatto che ci sono delle situazioni borderline, dal fatto che c'è tutta una serie di dinamiche, non ci sono solo i BES, siamo già oltre, ormai il mondo è così complesso che i BES sono qualcosa, si citava prima la direttiva Profumo, sono roba del 2012, la complessità oggi è molto più ampia. Possiamo andare, ve lo dico subito, ci vuole una funzione strumentale per l'inclusione, o una persona che ricopra un ruolo analogo, che abbia le competenze, la voglia di fare, la passione, e che abbia la voglia di mettersi in gioco. Ho trovato questa persona arrivando nel mio istituto, quindi sapevo di poter contare su una persona di questo tipo. Non ho un referente per ogni plesso, come accade in tanti comprensivi di fianco al mio. Perché? Perché questa persona conosce i bambini da quando arrivano all'infanzia fino a quando escono dalla scuola media. E questo ci permette di costruire percorsi che abbiano una logica, un senso, proprio nella logica del progetto di vita, e mettano anche in contatto gli insegnanti che spesso stanno in plessi, ubicati anche molto lontano, come vi dicevo prima. Quindi c'è una figura importantissima che fa da perno. Il progetto ovviamente dà a questa figura un ruolo. Possiamo procedere. L'altro elemento fondante è il documento del comune. Questo è il documento di quest'anno, l'anno scorso vi è stato detto che era un documento sperimentale. che abbiamo sottoscritto noi dirigenti, che abbiamo avuto il coraggio di farlo insieme a loro. Quest'anno è un documento emanato dall'amministrazione comunale, vedete, approvato con il termine a dirigenziale, che rientra però in un altro documento che si chiama Patto per la scuola e che riguarda poi il modo di gestione delle iscrizioni e tutti i dirigenti comunque hanno firmato, oltre all'ufficio scolastico. Prego. Lo trovate sul sito, quindi semplicemente per darvi l'idea che cosa c'è dietro, quindi la definizione di tanti aspetti. Questo è un documento cornice e noi all'interno di quella cornice ci muoviamo. Quella cornice l'abbiamo in un qualche modo creata, l'hanno creata loro, ce l'hanno proposta, tutto quel lavoro di condivisione di cui parlava Morelli ha portato a questo. Ecco, quindi è un frutto di rimature e di aggiustamenti continui. Proseguiamo. Che cosa fa invece la scuola? La scuola fa un suo documento specifico, quindi ogni scuola che partecipa elabora un suo piano di utilizzo delle risorse. Ci siamo anche interrogati su quale ruolo dare a questo documento. È, per la decisione che abbiamo preso, un atto gestionale del dirigente, perché non può essere una delibera di un organo collegiale, altrimenti ogni volta che c'è da modificarlo non ne usciamo più, passano tre mesi. E in effetti è un utilizzo di risorse umane, che non sono della scuola, ma che sono date all'istituto nel loro complesso. Quindi siamo poi noi a determinare quanti su quella classe perché c'è quell'alunno, quanti su quell'altra, o anche possibili modifiche in corso d'anno. Quindi ci vengono date risorse con le quali possiamo, in maniera molto flessibile, costruire dei percorsi. Prego. Tutto condiviso con il personale, con gli educatori, con le famiglie, la nostra pagina del sito sull'inclusione riporta tutto, proprio per essere trasparenti, perché, ce lo dicevamo, lo sentivo dire prima, è sempre importante coinvolgere le famiglie, coinvolgere tutti gli stakeholder, che è quello che poi state facendo voi, insomma. Prego. Che cosa fa? Sono estratti dal documento, non ho intenzione di passare queste slide al setaccio. Che cosa fanno gli educatori nelle classi? Quindi gli abbiamo dato ampi spazi, a partire dagli interventi individualizzati e personalizzati, che erano ciò che accadeva anche prima, a interventi invece all'interno del gruppo classe o sezione, o alle classi e sezioni abbinate, progetti ponte per i passaggi da un ordine all'altro, prego, prego, attività esterne, quindi la possibilità di uscire anche con il piccolo gruppo, interventi domiciliari o a distanza nei luoghi di decenza, quando ci è capitato e ci è capitato sovente, la partecipazione non solo ai GLO, ma anche agli incontri di programmazione periodica, ai consigli di classe, ai colloqui con le famiglie, e alle volte abbiamo aggiunto anche colloqui con famiglie di altri alunni della classe, degli alunni con disabilità, e questo ci ha permesso di allargare il campo. C'è tutta una parte tecnica, l'ho messa perché mi sono state fatte domande in questi mesi, come gestiamo le risorse educative quando mancano gli alunni? Ci siamo dati delle regole molto precise, proprio per evitare problemi, non vi nascondo che i primi che avevano dubbi erano gli educatori, il primo anno ci sono state anche polemiche, tensioni, anche legate all'interpretazione, abbiamo chiarito tutto, abbiamo chiesto anche al comune di chiarire e di mettere a punto. Noi ci siamo dati delle regole, in caso di assenza dell'alunno, tutto viene concordato con la funzione strumentale, il primo giorno si viene comunque a scuola e si viene utilizzati in un piano concordato, nel proprio orario, con la funzione strumentale, nei giorni successivi si valuta se è il caso che si mantenga il proprio orario, si venga a scuola, se ci sia disponibilità per modificare l'orario, oppure se si accantonino ore in una banca ore. È chiaro che tutto va concordato, serve un grosso lavoro, ecco l'importanza della funzione strumentale, un grosso lavoro di raccordo, l'educatore non deve mai sentirsi usato, questa è una cosa importante, lui, altrimenti rischia ovviamente di reagire, è come giusto che reagisca, deve invece diventare uno strumento importante per la costruzione di un progetto condiviso e in questo devo dire che abbiamo fatto grossi passi in avanti perché la macchina al momento sembra funzionare e funzionare bene, insomma, poi ci sono altri casi in cui viene previsto l'accantonamento delle ore, per esempio, ma sono esempi, insomma, quando c'è la riduzione oraria all'inizio d'anno, quando entra un nuovo alunno con disabilità e quindi fa molte meno ore del previsto, insomma, c'è tutta una serie di meccanismi che permettono di gestire, ci sono casi in cui le ore non si accantonano perché il documento quadro del comune non lo prevede, prego, ecco, abbiamo anche indicato in maniera analitica che cosa accade nelle giornate di assenza e che cosa, per che cosa l'educatore può lavorare nelle giornate in cui assente l'alunno e invece, però lui è a scuola, e invece che cosa succede quando quelle ore vengono poi messe da parte, accantonate in banca ore, cioè riprogrammate, per quali attività quelle ore possono essere utilizzate, quindi c'è anche una forte responsabilizzazione degli educatori che diventano corresponsabili insieme alla funzione strumentale, insieme al team docente, insieme agli insegnanti di sostegno, dei percorsi che vengono costruiti, quindi c'è anche una, ed era fra gli obiettivi del progetto, una piena responsabilizzazione. c'è poi un monte ore di progettazione educativa che è dato dal comune, ma siamo alla fine, prego, è fondamentale, come diciamo prima, che in ogni plesso ci sia, o in ogni istituto, a seconda, ci sia un referente educativo, ci sono stati dei problemi, assolutamente sì, mi viene da dire anche meno male, perché se no vorrebbe dire che gestiamo una scuola con la bacchetta magica, e non è francamente possibile, non giriamo bulloni, no? Ma, insomma, costruiamo percorsi educativi, che è una cosa che prevede istituzionalmente anche l'errore, è la possibilità di migliorare, quindi abbiamo sempre, io sono un po' il rompiscato di turno che alza il telefono del dottor Morelli e o della dottoressa Pasi o della dottoressa Laghi, insomma, che sono qua in platea, per segnalare c'è un problema, che facciamo? che succede? Insomma, l'importante è sempre il confronto, lo scambio e tenere il punto, come si dice. Il Comune ha fatto un bellissimo lavoro di risposta alle fac, eh? Ve le, ve le, faccio vedere, ecco qua, quest'anno abbiamo punto per punto rispetto alle domande che sono emerse dai, dalle scuole, risposte specifiche a casi concreti, per esempio, la butto lì e chiudo perché sono arrivato a zero, i miei secondi sono finiti, ma io, mi viene chiesto dalla funzione strumentale oggi che non ho il bambino di lavorare e fare delle ore, se posso, sull'altra classe in cui manca il docente, ma io sto sostituendo un docente assente. No, non è così. Tu, io non posso nominare il docente oggi perché il primo giorno è assente e il bambino non ha la condizione di gravità, quindi quel bambino oggi sarebbe comunque senza docente. nel pacchetto di ore che tu hai e all'interno del quale stavi pensando a un percorso da fare fra 15 giorni, un laboratorio, eccetera, invece di farlo fra 15 giorni, quella cosa la puoi fare oggi è un giorno in cui comunque il docente non c'è, non c'è perché non lo posso nominare, quindi le tue ore sono sempre quelle, non ti sto usando come tappabuchi, ecco, cioè abbiamo costruito tutta una serie di cosecchiare per permetterci di chiudo citando Daniel Pennac il passo è famoso quindi mi limito alle prime righe ogni studente suona il suo strumento non c'è niente da fare la cosa difficile è conoscere bene i nostri musicisti e trovare l'armonia una buona classe non è un reggimento che marcia al passo è un'orchestra che suona la stessa sinfonia io sono stato un pessimo studente di educazione fisica e quindi ero quello che aveva il triangolino quando gli altri mi si suonavano fisarmoniche e altri strumenti siccome il piacere dell'armonia gli fa progredire tutti alla fine anche il piccolo triangolo conoscerà la musica forse non in maniera brillante come il primo violino ma conoscerà la stessa musica prego abbiamo finito tutti noi siamo lì per aiutare i ragazzi i bambini a trovare il loro posto nell'orchestra ringrazio tutti i nostri educatori perché hanno capito la logica nella quale ci stiamo muovendo ringrazio Nadia Medori la cito per nome e cognome è la mia funzione la mia la funzione strumentale è per l'inclusione della mia scuola ringrazio le mie collaboratrici che sono a scuola io oggi sono qua ma loro erano sul campo ovviamente e tutto lo staff credo che una scuola funziona perché c'è una comunità che sa assumersi delle responsabilità potrebbe la scuola potrebbe andare avanti senza di me ma sicuramente non senza di loro ringrazio anche ho finito il direttore generale dell'ufficio scolastico per l'Emilia Romagna perché oggi dovevo essere una conferenza di servizio e mi ha autorizzato invece a essere qua all'ultimo ero stato preso per i capelli quindi non posso che ringraziarlo grazie a voi grazie